Ciao, guarda che c'è, guarda, 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 wow, è arrivato a mamma Natale, benvenuto, tu è venuto, vieni, vieni su, vieni, per piacere, vieni, guarda Movida, Emanuel, Movida, 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 Buongiorno Natale, che venuto, buongiorno, ciao! Questo è Emanuele, questa è la lettera di Emanuele, questa è la lettera, Emanuele ha detto che devi fare bravo, come si chiama tuo fratellino? E' Giovanni! E' Giovanni e' more, dovere? E' la mamma e' Giovanni? E' Ing, Iluridia. E' Compa! Come anche questo lavoro? E'一個 lo attivo, Sissi prego Bebo Natale, sediti, cosa hai portato? Dovereисamente Risotto a erro di lonurie. Cosa hai portato? Emanuele ha fatto bravo! Cosa hai portato? Adesso devo... Oh, grazie, grazie. Grazie, grazie. Adesso... Tu devi leggere. Cosa c'è? Leggimi io... Non vedo tanto bene. Leggimi la tua lettera. Babbo Natale ci ha scritto. Si, dopo? Babbo Natale. Cosa hai scritto nel Babbo Natale? Cosa hai chiesto? Cioccolato grande e mi porti anche colori. Bravo! Questo hai chiesto Emanuele? Emanuele è piccolino. E cosa per Giovanni cosa hai di voi che porti Babbo Natale? Piccola macchina. Piccola macchina porti. E anche? Anche... Cosa? Che colori? Anche per Giovanni. Anche per Giovanni. Per piacere. Per piacere. Loro fanno i bravi. Hanno fatto bravi? Si, sono bravissimi. Emanuele ha fatto bravo. Emanuele ha fatto bravo. Anche Giovanni. Il nostro canale! Sì, ci è. Per esempio. Vai, vai. Emanuele. Questa è la nostra casa? Questa è la nostra casa. Emanuele ha parlato. Emanuele ha parlato. Guarda che tu riscaldi schialdi. Ma che sono freddi. Ma freddi. C'è freddo. C'è freddo fuori. Emanuele ha parlato. Emanuele ha parlato. Perchè è freddo. Ma mamma mia cosa l'ha portato? Emanuele ha parlato. Ma mamma mia cos'ha portato? Ma va bene, questo è per Giovanni. Palloncino per Giovanni. Palloncino. Ura! Questo? Emanue. Emanue, questo per chi? Per Giovanni. Per Giovanni. Ma che chiede, Emanue? Per Emanue? Per Emanue, ce ne aveva vantato, non ce ne dò. Cosa mi hai chiesto? Pena. Ti ho creato. Chiesto? Emanuele, 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 emanuele. Colori, ura! Oh, mamma. Che bravo! Dai, dai un bacino. Dai un bacino a Pavo Natale. Bravo! Guarda che belli, guarda. Sì, domani, domani. Va bene? Domani facciamo bei disegni. Oh, mamma mia, grazie, che gentile. Guarda, ti ho dato. sticko bambino. č, prima c'è volante. Ancora forse. Rarzascii bambini. ёрbooks. Barba Natale. Adesso lecturme, Barba Natale. senza rec ένα bacino. 7-8 magi. Sì, chiaramente. Barba Natale. Che vuoi ancora? Parle cuore, tutto capisce in Cacilecchi. In Cacilecchi, Barba Natale. Tu guarda d' criteria! Emanuele, gli sono bei donaldi. Viva, bravo, 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 Emanuele. Viva, bravo, 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 bravo.